Cereali per la prima colazione con yogurt e frutti esotici o per la preparazione di torte, padding e muffin, come ad esempio il crane caramel con cereali integrali, cannella e huapassa. Altrimenti uso più classico per le zuppe o al posto del riso per la preparazione di insalate sostituendolo con farro e orzo.